Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Master89, siamo tornati qui su Clash Royale, scusatemi se non faccio altri gameplay, però vorrei farvi un gameplay su, come vi posso dire, su Geometry Dash, no? Se voi spoliciate, arriviamo a meno 3 like e vi porterò un nuovo gameplay su Geometry Dash e poi se arriviamo a più o meno 2 like vi porterò un nuovo contenuto di Clash Royale. Qui, praticamente, sempre il nostro mazzo l'ho modificato un poco, se vi interessa copiatelo, vi do 5 secondi per copiarlo. E basta, allora, stamattina ho fatto alcune partite, ho ottenuto dei piccoli bauli, siamo arrivati tipo al quinto baule, ecco sì, e andiamo a farci una partita sempre con questo mazzo. Ecco qua, c'è i bauli giganti, i bauli magici si trovano alla prima botta, credo, dopo il dodio, dodicesimo baule, dopo il dodicesimo baule, aiuto, dodicesimo baule stavo dicendo. Eccolo, 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 eccolo! Qua, il mio boscaiolo, guardate il boscaiolo, è velocissimo, cioè, dà dei colpi velocissimi. Comunque, stavo dicendo, i bauli giganti sono veramente troppo rari da trovare, cioè, si trovano immediatamente i bauli magici. E, che cavolo, raga, 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 che cavolo, raga, 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 questo è forte, oh, mazzo, sto perdendo tutte le partite oggi, raga, e va bene, 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 sto perdendo tutte le partite, e, va bene, dai, è il destino, guarda che pezzo di merda, neanche un colpo! Non scleriamo, dai, non scleriamo, se vinciamo, sperando alle mie di Dio, qua avremo il sesto baule, che non è facile, eh, giuro, buttami da me, dai, dai, vai, 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 avanti, vai, avanti, vai, avanti, vai, avanti, avanti, dai, dai, ok. E, la qua, ti butto un bello stregone di ghiaccio, ah, ah, il mio stregone morirà, sì, però i suoi sgheri, pam, neanche un colpo, no, 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 neanche un colpicino, ah, mega sgherò, pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu, pensaci tu. no raga è persa questa è persa è persa è persa è persa è persa è persa se giuro se si difende ecco qua ecco qua guarda mo lo spingono dall'altra parte e la torre cade giù no però stavolta praticamente io ti butto lui ti butto lui anzi ti butto lei eh almeno un poco no che cavolo raga un po' che gli danni cioè li devo fare no raga mi ha rotto raga sto domatore di madre l'è persa è persa ma il prossimo attacco con domatore è persa senti giuro mettimi il cavaliere sei morto basta eh raga che cavolo mi ha rotto no bello qua ti caccio in dei guai grossi grossi no raga è persa è persa è persa la prima è persa vabbè non è che si può vincere sempre eh 28 coppie mie 28 coppie mie oh mamma santa raga mamma mamma santa che tec di merda vabbè andiamo avanti se perdiamo anche questa cambio d'ecca cioè non è possibile che perdo 3.000 battaglie ne vinco una soltanto no allora facciamo così butto un bel stregoncino dietro no tua nonna butto un bel mega sgarro dietro no che già mi si inizia a cavolare mi sto già iniziando ad arrabbiare ma arrabbiare raga no 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 ad arrabbiare non si sta arrabbiando eccetera eccetera ti lanciano così così mamma santa senti mini pecca oh fai danni oh fai danni eh che cavolo guarda guarda eh ma lui è un pezzo di merda guarda che scemo va bene mettiamo uno secondo di ghiaccio questo lo mettiamo qua dietro almeno il mega sgarro aiuta aiuta con quel bocciatore di merda che io ce l'ho a livello 2 raga appena scioppato lo dico scioppato ma solamente 2.000 di oro dai non è che mamma mia la fin del mondo prepariamoci la scarica teniamoci la scarica pronta dagli due mazzate tec tec è scarichetta proprio tattica eh no spero di arrivare velocemente i dodici bauli raga se no scusate scusate per l'interruzione ma mamma mia raga mamma mia ma come si fa qua cioè no raga questa è persa è persa ma come fa a mettermi 3.000 cose no raga raga non è possibile cioè ma cos'è cioè vabbè raga no 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 bisogna subitissimo attaccare attaccare così attaccare non te ne andare non te ne andare eh guarda no 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 dai dove ho metterlo l'atto l'inferno c'è ma guarda eh metto sto deck a E la perdo Guardate raga guardate Ma non è uno scherzo Il bocciatore di uno al giro Come lo metto io perdo tutte le partite Ma raga se perdo anche sta partita Metto un decco il bocciatore Non ne fai da niente Qui si è in prima Guardate guardate Tutti con sto maghetto Del cavolo Madonna Dai per l'internale Acciappali Acciappali I miei goblin I miei goblin Sì i miei goblin Sentite raga Come non mi dò una cesta importante Se la vinco adesso Giuro mando a quel paese Clash Royale Ma lo mando proprio a quel paese Tu metterai Ecco lo sapevo Non gli ha dato neanche un colpo Ma sono serio Cioè ma stiamo parlando davvero Non lo so Ecco Ecco Cioè capitemi Cioè capitemi Dai 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 Non il goblin Non il goblin Non il goblin non il goblin si è quel maghetto la no eh e non è da prendere raga ma siete ignoranti proprio nel sangue cioè quel goblin cioè quel maghetto no non si prende ma stai scherzando guarda ma mi metti i barbari eh no oh è andato a quel paese neanche mi ha tirato no pure lui c'è la palinfocata c'è la palinfocata lui me l'ha buttata prima ad essere ignoranti nel corpo dai oh no me lo devi depotenziare un pochettino di meno un pochettino di meno dai stupida valchiera di merda vattene 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 bellissimo bellissimo no niente qua raga vinciamo solamente con il barbari di copi guardate 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 che pochettino di merda guardate boom e si va a vincere mamma mia e che cos'è vabbè più cosa è il sesto baule si 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 questo è il sesto baule raga io direi che l'appuntamento di oggi può venire qua vi chiedo un favore di lasciare un cavolo di like perchè il scorso video ho raggiunto i sei le sei villi su azioni ma due mi piace ho voluto fare questo video perchè contando le villi su azioni era come sai sei diviso due ho fatto un piccolo calcolo e mi è uscito tre quindi sarebbero tre like e vi chiedo di lasciare quel cavolo di like tutti e sei come state oppure altri e al prossimo video ciao ciao